Buone notizie per i lavori al raddoppio del tratto ferroviario a Mantova-Cremona-Milano. Il primo lotto riguarderà il tratto che congiunge Piadena e Mantova. A riguardo è stato diffuso un comunicato che sottolinea come si punterà proprio su quella parte di territorio. Nel frattempo sono stati esposti dei cartelli informativi riguardo ai lavori che verranno eseguiti, che avranno una durata di circa un mese. Entro la fine di febbraio sarà inoltre conclusa l'indagine di natura archeologica, quindi i tempi per la posa dei binari sono ancora prematuri, ma comunque un primo deciso passo verso l'avvio del progetto è stato fatto. L'inizio lavori, seguendo l'iter burocratico, dovrebbe essere fissato per il settembre 2021. Per vedere l'opera conclusa, quindi, si dovrà attendere, secondo la stima effettuata, circa tre anni e mezzo, ovvero il maggio 2025. L'opera è classificabile in quelle di grande portata, così come i costi di questa prima operazione, che si aggirano intorno ai 490 milioni di euro su un investimento complessivo che comprende il tratto da Piadena-Codonio da 1 miliardo e 320 milioni di euro.